Puntata emozionante quella di Uomini e Donne trasmessa oggi, mercoledì 2 ottobre, per i fan storici del programma di Maria De Filippi, perché in studio sono tornati Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che, con la loro storia, hanno appassionato i telespettatori sia durante la partecipazione al programma che successivamente. Andrea e Teresa si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne. All'epoca lei era la tronista e lui il corteggiatore. Teresa fu subito colpita da Andrea, sul quale tuttavia in tanti avevano dei dubbi, tranne Tina Cipollari, che, oggi, ha sempre ribadito di non sbagliarsi mai e di aver sempre creduto al reale interesse di lui per Teresa. A distanza di anni, la coppia è sempre più innamorata ed è convolata a nozze alla presenza delle rispettive famiglie, che, pur appartenendo a due realtà diverse, lui è di Venezia e lei di Napoli, si sono unite per celebrare l'amore della coppia, che ha anche voluto ringraziare Maria De Filippi Emozionati, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno poi ringraziato Maria De Filippi con una toccante lettera. Al termine della lettera, Maria definisce Maria De Filippi lascia il suo posto sulle scale per abbracciare gli sposi che ballano nello studio, dove il loro amore è nato sulle note di Bruciare per te, di Elisa.